Sono state 9 le misure cautelari emesse dopo il blitz messi in atto alla stazione di Fontiveggia di Perugia dalla Polizia di Stato, in seguito all'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia. 6 le persone arrestate, mentre 3 sono attualmente irreperibili sul territorio nazionale e sono ricercate anche in ambito internazionale. Tutti 9 sono di nazionalità tunisina, con età compresa tra i 32 e i 54 anni, e tutti sono gravemente indiziati, in concorso con altre 12 persone attualmente indagate. I reati riguardano la detenzione e lo spaccio di stupefacenti come hashish, eroina e cocaina. Il provvedimento cautelare costituisce l'epilogo di una complessa ed intensa attività investigativa. Le indagini erano state avviate lo scorso giugno e si sono sviluppate con appostamenti e pedinamenti, ma anche con l'utilizzo di fotocamere e il monitoraggio delle telecamere di sorveglianza. Circa 800 gli episodi criminosi documentati nel corso delle ricerche dalla polizia giudiziaria, che ha constatato l'esistenza di una vera e propria piazza di spaccio, dove i soggetti agivano indisturbati, esponendo tranquillamente sui muretti le varie sostanze o confezionando le dosi sul posto di fronte all'acquirente. Il materiale ha permesso di individuare i compiti e ruoli di ognuno, con tanto di coordinatori e fornitori dei vari gruppi di spacciatori operanti nella zona.